Nella propria area di rigore, vediamo gli azzurri che si propongono, anche gli alti come Cannavaro. Gargano, il traversone, sotto porta, cercare Dennis, la deviazione, una traversa! E poi la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Amsic! 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 E lui! Eccolo qui! Mare, Giano, Amsic! Va a festeggiare con tutti i tifosi del Napoli. Non voleva entrare in porta il pallone. Alla fine, dopo la traversa, deviazione, con spalle alla porta di Mareghiaro! Mareghiaro! Mareghiaro!